A Roma, qui al Farnese, essenzialmente sono stati programmati e presentati tutti i film delle giornate degli autori e continuerà fino a dopo domani. C'è qui Fabio Midere che è il titolare del cinema Farnese Perso che vuole dire una cosa. Sì, grazie, buonasera, grazie di essere venuti qui questa sera, sono molto contento di presentare questo film di Mario Sesti che già dagli inizi di questa mia occupazione del cinema Farnese, occupazione nel senso di questo mio occuparmi del cinema Farnese diciamo così, mi ha seguito nel 2007, abbiamo fatto con lui la festa di Roma qui e quindi sono stato molto contento perché all'epoca così scelse noi per fare questo bel evento, quindi ritrovarlo qui è magnifico, sono molto contento. L'informazione era semplicemente tecnica, cioè volevo dire a quei signori che sono in galleria, visto che ci sono tanti posti la produzione ha detto che se scendete ci fa piacere, insomma non vi volevamo escludere. Quindi in galleria se volete scendere giù potete, ce ne sono molti di posti. Grazie.